Se io le dicessi la scuola fa schifo, è una mia serie, mbe? Eh, lo so che è una tua serie, se no manco te ne parlavo, fammi parlare un secondo, no? Quante è che non la porti? Vabbè, mo, sì, lo so che non la porto da un po' troppo... La devi caricare? Sì, 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 prossimamente... Carica, carica, carica. Mi faccia parlare però, allora, oddio, prossimamente la porterò. Sì, sì, per carità le parli pure, domenica, episodi online, eh? Come domenica? Sì, sì, domenica. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro, no? Il 4 giugno, episodi online. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, gentilissimi. Siete troppi, poi dopo montiamo l'applauso, eh? Proviamo a rifarla? Se vuoi, riprovo subito. Torno indietro, eh? Allora. Vediamo un po'. Ok, io mi giro. 3, 2, 1, vai. Eh, sì, ok. So il coglione. Tra l'altro, essendoci 47 gradi oggi a Roma, io eviterei di fare il video in camicia. L'ho tenuto al gestante dell'intro perché è un momento delicato, un momento molto importante. Però, dato che non vorrei che diventasse un video porno in cui faccio uno spogliarello, scusate un attimo, torno subito, eh? Oh, occhio e cruce, così sto meglio. Stiamo molto più freschi. Bello ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo, nuovissimo appuntamento emozionante con la serie La Scuola Fa Schifo. Serie che veramente non esce da sei mesi forse, forse un pochettino di più, non lo so. Ma comunque questa assenza, intanto mi motivo, dicendo che questa serie non ha mai avuto una cadenza ben precisa. Va avanti, sopravvive, vive, semplicemente con le idee che vi vengono per l'argomento di cui parlare. E anche con le idee che potete darmi voi. Motivo per cui, in ogni episodio, io vi dico, ragazzi, lasciatemi qui sotto nei commenti tutto un consiglio per, cosa che voi non fate mai. Però, comunque, se vi va e se volete questa serie più spesso, ovviamente, consigliatemi argomenti fighi, cazzuti. Tanto le restrizioni ormai sono da pattare. E qui sotto nei commenti. Ah, e comunque vorrei un applauso perché ho pubblicizzato questo video per farlo uscire il 4 giugno e sono riuscito a farlo uscire il 5. Grazie, ragazzi. Apprezzatevi anche per questo. Ma comunque, tornando a noi, in questo episodio, signori, io ho tante cose da dirvi. Ma tante proprio. E il titolo è tutto un programma. Il mio rapporto con i prof. Il mio rapporto con i professori in generale non è per niente negativo. Soprattutto negli ultimi anni, devo dire. Perché comunque, quando ero un po' più piccolino, attendevo un po' ad andare contro, a cercare la polemica. Perché comunque sono fatto un po' così. Non che adesso sia esattamente da così a così. Però, diciamo che, non so, né bianco né nero. Sto in mezzo. E quindi sono una persona equilibrata, diciamo, ok? Quindi rispetto a prima. E cosa importantissima. Non mi fermo alla superficialità di quella che può essere la votazione, quindi il voto. Ma vado oltre. E questo, perché ci tengo a dirlo? Più avanti nel video, poi capirete. Perché io prendo sempre come esempio un ragazzo che dice, sì, quel professore mi sta tanto simpatico, peraltro mette 10, se fa un cazzo, bene. E non è che funzioni esattamente così. Specialmente perché, nella mia carriera scolastica, mi è capitato in primo anno, nel primo liceo, e questa cosa ve l'ho raccontata anche in passato, che presi il debito in latino. Perché comunque, nel classico professore, simpatico, eh, però poi te mette due se tu lo meriti, quindi devi tenertelo amico fino a un certo punto. Cioè, don't extend yourself, non t'allargà, di cosa si, non so, dica mai. Eppure io sono sempre rimasto in ottimi rapporti con questo professore, prima e dopo il debito. Lo stimo tutt'ora, tra l'altro oggi, in giornata, l'ho anche incontrato, quindi saluto il professor Fabrizio, magari il cognome, meglio non dirlo, per motivi di privacy, che sennò poi è andata a cirofana sotto casa e che ne conosco. Ma adesso voi vi starete chiedendo perché ci hai fatto tutta sta premessa, come al solito. Perché ve lo spiego subito, o quasi, perché non è che ve lo posso spiegare tutto subito, un po' di suspense, dai, su. Quest'anno mi è successa una cosa che francamente non mi aspettavo. Adesso voi pensate, ecco, fa la parte di quello vissuto, sa, sente, cal... No, ragazzi, sono molto tranquillo, ve lo dico proprio... Anche perché so che magari chi di dovere starà guardando questo video, o comunque indirettamente vi arriverà, quindi un saluto e un bacione. Ma comunque, dato che non ho peli sulla lingua, e dato che mi piace parlare sempre con voi, voglio raccontare questa esperienza che ho avuto anche nella seguente materia. Latino. Ma figo, perché è sempre in latino che è succeduto nei casini. Il docente in questione è arrivato nella mia scuola lo scorso anno, quindi mi insegna latino da due a questo è il secondo anno, e già dall'inizio, non mi piace fare la parte della vittima, però già dall'inizio, nei miei confronti, scherzando, ridendo, perché comunque, sì, per chi mi conosce lo sa, io sono una persona che a volte può esagerare, però comunque mi reputo. Intanto è una persona abbastanza equilibrata. E poi è una persona, sì, mi piace stare allo scherzo e tutto quanto, ma poi c'è un limite. Cioè, se mi piace stare allo scherzo e poi a te sta cosa non ti sta bene, allora, intanto magari me lo vieni a dire direttamente e non me lo fai arrivare con il tuo atteggiamento, no? Perché comunque siamo umani, il Signore qui presente ci ha dato la parola e quindi perché non parlare, prima cosa. Ma poi, avendo capito che magari sopra un limite non potevo andarci, mi sono fermato, e vi parlo questo sempre dello scorso anno. Chi non si è fermato è stato appunto il docente, che non ha evidentemente capito la mia o buona fede o comunque il mio stare al gioco. Quindi ha pensato bene di cominciare a farmelo capire da alcuni atteggiamenti negativissimi nei miei confronti, anzi, dimolo, ma proprio trattato del merda. E questo poi uno ci fa caso, ok, ma lascia il tempo che trova, perché una persona matura può fare anche questo ragionamento. Per carità, noi siamo a scuola, ma in generale nel mondo ci sono persone che ti possono stare antipatiche, simpatiche, quindi il mondo è vario, è bello per questo. Può anche capitare che a volte ci siano delle incomprensioni, no? Quindi non ci si spiega e si va a discutere, a litigare per questo. Fatto sta che col passare del tempo, oltre al fatto che, sì, io sono partito molto in quinta, giusto o sbagliato che sia, ho preso le mie distanze, ma da persona comunque tranquilla, nel senso che non ho più rotto le palle, che magari il mio atteggiamento scherzoso poteva sembrare una rottura di palle nei tuoi confronti, e quindi, niente, ho continuato a fare la mia vita tranquillamente, tenendo però quella parolina, che io chiamo rispetto, non so se la conoscete, e coerenza soprattutto, quindi, sia che studiavo, sia che non studiavo, mi rapportavo in un modo rispettoso, parlando sempre, ma ve lo dico tranquillamente, perché io ho sempre avuto, ecco, mi ricordo il discorso in serie del video, un rapporto molto diretto, tranquillo, trasparente, ecco, non mi viene il termine, con i professori. L'ho tuttora, la maggior parte, se non tutti i professori che ho, sanno di YouTube, per carità YouTube è una cosa che deve essere un contorno, la scuola è fondamentale, però io non ho problemi anche a parlare, a esprimermi, ad aprirmi, e cosa che purtroppo, soprattutto nel caso di questa docente, che mi dispiace, ma è sempre lei al centro di tutto, non è arrivata, non è arrivata in modo positivo, non è stata molto corretta, per così dire, dai, vi dico solamente, dai, ve la butto lì, la classica persona, che tu gli racconti di YouTube, ti fa bella sta cosa, fichissima, fa però le tue spalle, perché le voci girano, no, Federico dovrebbe smettere di fare YouTube, mi portaria troppo tempo, e poi, vabbè, tutte le cose che ne susseguono, quindi, prese per i fondelli, eccetera, solo che capito come funziona, una battutina tira l'altra, le cose cominciano a dirtere in faccia, solo che se una persona ti fa la battutina, quando tu non sai, che comunque ti ha parlato alle spalle, ok, se tu sai già che ti ha parlato alle spalle, è falso, quindi, se so determinate cose di una persona, poi non riesco a far finta di niente, e se la battutina mi arriva, da parte di quella persona, capace che gli rispondo, quindi, la prima volta resisto, la seconda pure, e la terza magari no, ecco perché, col passare del tempo, questa situazione andò un po' a degenerare, ed è successo il tutto, più precisamente, qualche mese fa, quando praticamente è successo questo. Mercoledì. Prof, mi scusi, posso rubarli un minuto? Sì, Marconi, dimmi. Senta, io dovrei venire in latino, venerdì andrebbe bene, faccio il massimo per prepararmi? Venerdì... Sì, va bene. Venerdì. Buongiorno, prof, posso parlarle un minuto? Dimmi, Marconi. Lei come sa, praticamente io oggi sarei dovuto venire all'interrogazione. No, tu vieni. Sì, mi faccia parlare un secondo, ho avuto un imprevisto. non mi prega niente, se non viene ti prendi te. Prof, le dico che ho avuto un imprevisto, mi faccia parlare. No, ok, ti prendi te, ma non è un mio problema, non mi interessa minimamente. Ecco, purtroppo ragazzi, questo è stato il tutto. Per carità, sicuramente io ho sbagliato da un punto di vista didattico, perché se devo andare all'interrogazione e non mi faccio trovare pronto il giorno in cui devo andare e uno la vede solamente in quel piccolo cerchio, Federico ha sbagliato, ok, perfetto, gli metto tre. Peccato che io ho avuto veramente un serio imprevisto, perché avevo avuto un lutto in famiglia. Quindi questa cosa mi ha dato molto fastidio, semplicemente perché io ho cercato il dialogo, l'umanità, la trasparenza, come sempre, dall'altra parte invece, proprio, io quello che ho detto poi alla professoressa in quel momento è stato me voleva mettere tre. Non è che io voglia fare la parte della vittima, però arrivateci con ragionamento. Se il docente in questione, in quel momento, non avesse voluto mettermi tre, non me lo metteva, avrebbe capito la situazione, io sarei andato all'interrogazione la settimana dopo e finiva là. Tutti amici come prima, io facevo questa interrogazione. Quindi, mettiamoci questo, più l'anno e mezzo precedente, a quel tre, perché poi la persona molto matura mi è arrivata a rinfacciare il fatto eh, ma tu stai rosicando perché ti ho messo tre. A me del tre, non me ne frega un cazzo, non hai capito, cioè nel senso, è chiaro che poi se ne mettevi otto era un'altra cosa, però io non mi soffermo su quello. E il fatto che tu non l'abbia ancora capito dopo un anno e mezzo, oltre a renderti una persona piccola, evidentemente meno intelligente e sveglia di quello che pensi tu, mi dà ancora più fastidio. E alla luce di tutto questo voi state pensando, che è successo dopo? Allora, è successo che io mi sono ritrovato ad aprile, al pagelino di metà quadrimestre, con un quattro in latino. Con un quattro in latino, comunque sì, per quanto riguarda le medie, e considerati i tre e tutto quanto, ci stai la maglia da quella. Da qui la situazione, almeno dal punto di vista didattico, è cambiata e come? Nel senso che sono arrivati praticamente tre otto e un sei meno, in un compito in classe, tre otto in tre interrogazioni. Il problema poi non è tanto questo, ragazzi. Il problema è che, in generale, io adesso rispetto molto il mestiere, ogni mestiere, io rispetto molto ogni mestiere, però tu sei un professore, ok, che insegna al liceo, alla privata, hai non più probabilmente di 25 anni e comunque ti stai rapportando con una persona che non ha neanche dieci anni in meno di te. Una persona che comunque si ritiene matura, ma che si comporta in modo maturo nei tuoi confronti, cerca di andare a fare determinati ragionamenti che però evidentemente non ti competono. e la cosa che più mi dà fastidio è che se si limitasse ad un non sono d'accordo con te, cioè dal suo punto di vista, non sono d'accordo con te, va bene, al limite non ti sopporto, non ci parliamo e va bene, finisse lì, ok. Il problema è che molto spesso la famosa penna, quante volte i vostri generi hanno detto sì, sì, tu avrei anche ragione nei confronti dei professori, però loro hanno la penna. Questa purtroppo è una cosa che è vero, per carità, quindi bisogna fare attenzione. Una cosa molto importante, non andate voi a provocare i professori, semplicemente perché poi appunto loro hanno la famosa penna e quindi se vogliono il 3 ve lo mettono, se vogliono la nota ve la mettono, se vogliono ve sospendono, se bocciano, però c'è un limite a tutto, perché sennò poi andiamo a parlare del famoso abuso di potere, no? Cioè è quello il concetto. Se tu, perché hai una cazzo passata in termini di penna e sei da quell'altra parte della cattedra, pensi di poterti permettere di trattare come un pezzo di merda me o chi di dovere, qualunque, perché io non parlo solamente di me, gli atteggiamenti che ho visto nei confronti della classe in generale da parte di questo docente e quest'anno sono stati veramente pessimi. Quindi se tu non ce la fai, non hai abbastanza pazienza per un determinato mestiere che concerne il fatto di doverti rapportare con delle persone più piccole, ma comunque con degli alunni, se non gliela fai, cambia lavoro, non ci vuole tanto. Quello che ho sempre detto io, per carità, ci vuole tanta pazienza, i professori vanno capiti, è quello che vi pare, ma non ti ha obbligato nessuno a fare questo mestiere, ok? E fidati che quella che tu ritieni, la classe proprio peggiore che hai mai, a cui hai mai insegnato, in confronto ad altre, è la più tranquilla. Io, come sempre, non so se ve l'ho già detto prima, ma c'ho Alzheimer, quindi nel dubbio lo ripeto, amo parlare con voi di tutto, avevo tantissimo da dire, ho deciso di tornare con un episodio pesante, dai, diciamo, mi è stato un po' pesante perché vi ho praticamente vomitato quattro mesi di scuola, però ecco, cioè, da un punto di vista, a me non dà fastidio, cioè nel senso, a me questa situazione non cambia nulla, ve lo dico, perché io resto comunque della mia idea, se tu vuoi chiarire, vieni a parlare con me, dopo che comunque l'atteggiamento sgorbutico nei miei confronti ce l'hai chiamato tu, e a me non interessa che tu sia la professoressa, è quello il discorso, sarò dalla parte del torto, senza dubbio, non avrò ragione per nessun motivo al mondo, ma se il tuo, ripeto come ho detto prima, essere professoressa, ti esenta da ogni colpa, c'hai sempre ragione te, ti puoi comporta come te pare a te, perché tanto non ti dice niente a nessuno, va bene, perché tanto nella vita, come si dice a Roma, quello che ti passa alla sveglia c'è sta sempre, quindi non preoccuparti, e ripeto, ve lo sto dicendo una persona che eccezionfatta per questo personaggio che ho all'interno della mia scuola, ho un ottimo rapporto con tutti i professori, quindi non è che ve lo sta dicendo il classico bullo di periferia che arriva, entra, dice, coatto, sente calda, no, ve lo sto dicendo una persona tranquillissima, che può avere torto, che può avere ragione, ma che ha il suo punto di vista e che a differenza di qualcun altro non ha problemi di condividerlo con la persona in questione e con il mondo. Detto questo ragazzi, io ho detto quello che dovevo dire, non so se, cioè non ho mai seguito nella vita uno schema tattico, spero di comunque essere stato il più chiaro possibile, spero di avervi fatto arrivare qualsiasi cosa, magari anche, dai regà, battete il 5. E allora, io chiaramente vi invito a lasciarmi qui sotto nei commenti un consiglio per l'argomento del prossimo episodio, ma dovrebbe sicuramente essere riferito alle pagelle, ecco appunto, se volete scoprire se poi il debito di latino l'ho preso o no, guardatevi il prossimo episodio che uscirà, penso, tra una settimana, comunque quando ci saranno i quadri con le pagelle, perché da me sono i 12, fatemi sapere anche nelle vostre scuole quando saranno, e niente, questa è anche l'ultima settimana di scuola, questo video per l'appunto dovevo uscire ieri che è la domenica, è uscito oggi che è lunedì, quindi è ufficialmente l'ultima settimana di scuola, infatti, cioè, io guardate come sto, vengo da una comunione stamattina, sto in pantaloni lunghi, prima c'era pure la capice, era vera, cioè non mi ero cambiato, ho tornato così dalla comunione, quindi sto un po' in difficoltà motoria, però, vi voglio bene, vi mando un bacione, non vi becchiamo i prossimi video, bella, mica, mia, mica mi ricordavo che era così difficile mentre un reggiseno, che poi ce l'avesse così grandi, mi sto a fare pure in complimento, gli faccio una bella figura, vabbè, regalimoselo, comunque così ostile, dai, alla prossima, non mi fate troppi meme su questa, non so neanche troppo male, almeno non sembra quella della telecamera, vabbè, ciao, regal, Ciao,